Saper riconoscere la buona finanza, approfondire il fenomeno dell'usura, aiutare gli studenti ad affrontare e superare i problemi legati alla dipendenza da denaro. Nasce con queste finalità il corso di formazione Principi e metodi di un'educazione finanziaria per il XXI secolo, organizzato dall'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento del Consiglio regionale del Piemonte, insieme al Centro UNESCO di Torino. Al corso prendono parte una cinquantina di insegnanti di differenti discipline, di scuole secondarie di primo e secondo grado del Piemonte. Tre gli appuntamenti in programma, tutti online, a causa delle restrizioni sanitarie. A inaugurare il percorso di formazione il 29 marzo, l'incontro dal titolo Il ruolo sociale e dell'educazione finanziaria, tenuto da Elsa Fornero, già docente d'economia politica all'Ateneo di Torino ed ex ministro del lavoro e delle politiche sociali. In apertura dei lavori, gli interventi dei consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Giorgio Bertola e Gianluca Gavazza. L'educazione finanziaria è sicuramente importante in generale, maggiormente importante in questo periodo, perché da un anno, a partire da quando è iniziato purtroppo questa pandemia, questa emergenza, l'osservatorio regionale su usura, sovraindebitamento e estorsione si è attivato ancora di più, ha cercato anche di aumentare il livello delle sue attività, perché c'è un rischio usura che è aumentato con un fattore di 1 a 10 per le famiglie e anche per le piccole imprese. Oggi più che mai è preziosa l'operazione educativa, quella di indirizzare gli studenti alla ricerca di soluzioni e problemi che vanno contro a questa dipendenza dalla ricerca del danaro facile. Ecco perché abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo bisogno di voi docenti che possiate intervenire nelle scuole per poter educare i nostri figli, i nostri nipoti. I prossimi incontri dedicati al fenomeno dell'usura sotto il profilo criminale e ai laboratori didattici sono in programma il 12 e il 26 aprile.